Il primo gennaio 2013 in materia di immigrazione vi sarà una equiparazione rispetto alle altre materie, in tema di possibilità di autocertificare stati e qualità personali, in generale in materia di immigrazione fino a 31 dicembre 2012 ciò non è ancora possibile, ossia occorre chiedere rilascio dei certificati prescritti dalla legge. In materia di idoneità abitativa, al di là dell'uso improprio del termine certificato di idoneità abitativa, in realtà non siamo in presenza di un certificato, quindi l'autocertificazione è esclusa tanto adesso quanto da 2013. In materia di cittadinanza italiana, poiché vi è anche l'ipotesi della rinuncia alla cittadinanza italiana che può essere effettuata da un cittadino italiano, non da uno straniero, tutte le istanze riguardanti in genere la cittadinanza già da adesso non vanno più corredate con certificati che la pubblica amministrazione potrebbe acquisire d'ufficio dall'amministrazione competente.